Mi sento abbastanza tranquillo nel senso che iniziare la partita in casa con giustamente un clima non sicuramente positivo ma appunto dettato da tante situazioni e forse alla prima palla inattiva subire un colpo di testa in quella maniera, l'incrocio dei pali, andare sotto credo che se non sei forte, se non hai la convinzione di poterti tirar fuori e di poter invertire questa tendenza c'erano tutti i presupposti per mollare e invece ho visto una squadra che anche se in qualche momento timorosa però ha trovato poi il filo per rimettere in campo sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista dell'atteggiamento la partita sui binari che noi volevamo, quella di andare a prenderci questo risultato. Io credo che noi abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno del nostro stadio e dobbiamo essere noi anche andare a riconquistarceli quindi credo che una squadra non può dire io preferisco giocare fuori casa, no, io preferisco giocare col Brescia in casa. Ci vuole una squadra che vada in campo con convinzione, è chiaro che non si può cancellare tante cose ma cercando di andare intanto a migliorare sia il suo atteggiamento che comunque ci siamo e forse ripartire anche dagli ultimi 15 minuti perché è stato anche il momento in cui sono rientrati alcuni giocatori per noi importanti e io mi aspetto molto da questi giocatori.